La Gabbia della Lupa L'ente nazionale per la protezione degli animali è decisamente contrario al perpetuarsi della vecchia costumanza romana di tenere rinchiuse e segregate al vita due povere bestie. E allora Lupa no, queste ospiti dello zoo non sono minacciate di trasloco, ma una buon conto se la dà a gambe.